buongiorno a tutti ben ritrovati oggi è martedì 28 marzo e questa è la rassegna stampa di fano tv sul canale 17 allora iniziamo con come di consueto con la lettura del santo del giorno vediamo se oggi possiamo fare gli auguri a qualcuno sì possiamo fare gli auguri a quelli che si chiamano sisto oggi infatti la chiesa ricorda san sisto terzo papa il sole è sorto alle 6.56 tramonterà le 19.30 il cielo oggi sarà sereno o al più poco nuvoloso con temperature minime in diminuzione e le massime in aumento questa mattina alle 7 e mezzo faceva piuttosto fresco qui sulla costa abbiamo 4 gradi i venti di brezza leggera utesa dai quadranti settentrionali per la giornata di domani mercoledì 29 marzo ancora cielo sereno su tutta la regione Marche con temperature in aumento nei valori massimi senza variazioni invece in quelli minimi per quanto riguarda il cielo il tempo per giovedì 30 di marzo abbiamo un cielo sereno poco ruoloso con temperature in lievamento i venti a regime di brezza con intensità massima di brezza leggera nelle ore giornate centrali della giornata ancora comunque cielo e tempo stabile per le prossime giornate per i prossimi giorni allora subito la pagina principale del resto del carlino la vediamo insieme eccola qua l'edizione di pesaro con la fotonotizia per le biciclette rubate ebbene sono tante quelle nel magazzino dei vigili urbani di pesaro ci sono più di 50 biciclette che sono al momento senza padrone dunque se avete perso una bicicletta se ve l'hanno rubata insomma sappiate che nel magazzino della polizia di pesaro ce ne sono almeno una cinquantina il comune vuole i vaccini sempre il comune di pesaro vuole i vaccini obbligatori dunque il voto è politico ed è in appoggio alla legge regionale sugli asili negli asili se tutto andrà a buon fine insomma si potranno portare solo bambini che sono vaccinati mentre i 5 Stelle hanno applaudito il dissenso coloro che invece ancora vorrebbero decidere e senza avere l'obbligo di vaccinare i propri figli la secessione è un altro problema ci sono due località del Montefeltro che vorrebbero passare con la Romagna ebbene questa secessione non piace però a tutti e la secessione non finisce c'è un altro pezzo di Montefeltro che è vicino alla fuga poi vedete sotto un ex bancario che picchia la moglie ed è finito in manette irreprensibile fuori casa ma violento dentro la donna si rifugia per sfuggire alle botte del marito si rifugia in macchina la pagina di Fano del resto del Carlino eccola qua dopo anni di abbandono risorge l'hotel Riviera quello che sta tra Fano e Pesero più vicino a Fano in realtà prima di Fosso Signore sulla sinistra andando verso Pesero investimento da oltre un milione di euro ospiterà 17 appartamenti ad uso turistico in via di realizzazione 5 monolocali 12 bilocali e un ristorantino a piano terra e questa è la pagina di Fano la pagina principale del Carlino di oggi poi il rogo del pesce azzurro i PM non fanno sconti chieste pene pesanti agli imputati le difese hanno ribadito che l'incendio sarebbe scoppiato per una casualità poi a centro pagina vedete Fano TV ancora interrogatori gli inquirenti vogliono stringere il cerchio invece su un altro rogo quello che è divampato giovedì sera alle 20.53 mentre c'era il telegiornale in onda anche se registrato lo ricordiamo ebbene la polizia ora sta indagando che sta indagando sul caso sta cercando di stringere il campo su più situazioni sospette anche se come ribadito e ribadisce il quotidiano questa mattina parole che sono state dette sin da subito in 11 anni di trasmissioni Fano TV non ha mai ricevuto minacce mai né io personalmente e neppure i miei collaboratori ma forse qualcuno non ha gradito oppure è rimasto offeso da qualche nostro servizio poi c'è anche altra cronaca sulla pagina principale del resto del cardino sulla pagina di Fano di oggi ebbene le altre eccola qua l'uomo di Vitruvio troneggi alla bastione Nuti questa è l'altra notizia che appunto troverete sul giornale di questa mattina riesco ad allargare il giornale non sempre non me ne vogliate ma non è che lo faccio apposta stamattina il touch screen va un po' per i fatti suoi dicevo la proposta del centro studio il canone della bellezza è il disegno più celebre del mondo una colossale riproduzione alle porte della città dunque Seri che è il sindaco di Fano dice geniale verificherò la fattibilità e dunque vediamo se questo colpo in canna come dice Zacchilli possiamo spararlo dobbiamo spararlo oppure no ma se non ora quando insomma Vitruvio sapete è un architetto romano a cui è attribuita la basilica di Fano dunque ha dei rapporti con la nostra città e questa potrebbe essere una come dire un simbolo un richiamo identificativo terre roveresche sempre sul Carlino andiamo qua allora Sebastiano Limpista l'ex sindaco di Orciano è il primo candidato al municipio del nuovo comune dunque qualcosa si sta muovendo qualcosa si sta muovendo anche sull'altro fronte non solo quello di Colli al Metauro dove al momento c'è solo Stefano Guzzi che si è candidato l'ex sindaco di Fano che si è candidato a diventare il sindaco di Colli al Metauro adesso anche terre roveresche sta cominciando a muovere le prime pedine c'è Sebastianelli dunque in pista in squadra in squadra ci sarebbero anche Claudio Patregnani e un ex assessore di Orciano strada della Contessa quella che si fa abitualmente per andare in Umbria per andare a Roma per esempio ebbene l'Umbria investe invece le marche le marche no sull'altro versante il tratto dell'arteria viene inserito nel piano regionale dei trasporti chi fa questa strada sa benissimo che insomma in questo momento non è che sia il massimo la parte pesarese da Calmazzo a Ponte Riccioli o Ponte Riccioli insomma è sempre più abbandonato e quindi è un tratto tra l'altro adesso interessato di nuovo dai lavori vedete è di nuovo a senso unico di marcia quindi carreggiata ristretta insomma è un po' una situazione così e spesso si formano anche lunghe code c'è attesa invece Speranza dopo il dramma per Andrea Dini questo ragazzo di 16 anni che durante che è residente a Macerata Feltrea e che a seguito della devastante caduta dalla sua moto una 125 durante la gara di motocross che si svolgeva a Ponzano di Fermo la scorsa domenica pomeriggio in questo momento è ricoverato all'ospedale e il 16 anni ha subito un arresto cardiaco dopo una devastante caduta in motocicletta durante il salto si era scontrato questa moto con un'altra con un'altra motocicletta lui è caduto e ha perso conoscenza e quindi adesso chiaramente si prega per lui adesso invece andiamo sul Corriere Adriatico la prima pagina eccola qua in primo piano il titolo che riguarda i vaccini niente bambini all'asilo all'asilo nido senza i vaccini obbligatori passa la mozione trasversale in consiglio comunale a Pesaro il no dei grillini davanti alle mamme blitz antiparcheggiatore abusivi fuggi fuggi al Carducci guerra alle scritte che deturpano il centro il comune fa ripulire i muri imbrattati operazione costo zero i murales non si toccano e anche qui la notizia vedete sta lottando per la vita il giovanissimo centauro andiamo sulla pagina di Fano nell'aset nell'aset unica rispunta il CDA poltrone da dare alla politica oggi il voto sullo sullo statuto così risparmiamo sulle cariche si riduce a 11 mila euro siamo proprio le ultime battute della fusione tra aset e servizi costituita a suo tempo per gestire principalmente la raccolta dei rifiuti solidi urbani e la distribuzione dell'acqua potabile e aset holding a cui era stata affidata la proprietà delle reti anche se in seguito ha potuto gestire anche altri servizi questa è la notizia principale sotto invece ora il capitale sociale non è cedibile ai privati le altre pagine di Fano del Corriere Adriatico cani liberi nel parco con rischi invece rischi per i bambini a San Lazzaro a San Lazzaro sporcizia e pericoli per la manutenzione fiducia revocata cani sciolti dunque a tutte le ore che possono gironzolare liberi per il parco pubblico entrando persino nelle case e lasciando escrementi sui prati è questa la situazione diventata intollerabile per i residenti del quartiere Vallato che hanno le loro abitazioni proprio a ridosso del giardino di via Valdossola e che si ritrovano a fare i conti con la scarsa educazione dei padroni di animali e spesso il problema sono appunto loro non tanto gli animali rotatori da curare in cambio della pubblicità entro il 26 aprile invece questa è un'altra proposta del Comune di Fano le proposte di chi vuole così abbellire la città puntando sulla pubblicità e quindi sulle rotatorie su questi spazi verdi può fare domanda da presentare al Comune entro il 26 di aprile opzione per altre aree verdi non tutte le rotatorie saranno date ai privati per la loro pubblicità ce ne sono alcune un po' strategiche alcune grandi che invece necessitano di una cura ulteriore quindi magari di un concorso di idee per poter realizzare qualche qualche monumento o quant'altro insomma fanghi problemi risolto ecco siamo sempre su Fano ecco tutti i mali del porto dibattito tra Capitaneria Università Gruppo Pesca Consorzio Alberghi e Marina Gruppo non era mai accaduto che si mettessero tutti insieme tanti interlocutori così rappresentativi attorno al capezzale del porto di Fano questo porto che è così descritto insomma moribondo e invece il Lions Club di Fano è riuscito a mettere insieme tutte queste persone tutti questi rappresentanti per fare un po' un quadro un punto della situazione che è importante per una città che si dice a vocazione turistica allora andiamo sull'altra pagina adesso facciamo tra Maus e Dita ecco qua andiamo sul Vale del Cesano Terre del Catria impegno amore per rilanciare l'economia locale oradei dopo quattro anni confermato presidente spazio anche per la solidarietà ai terremotati e poi ancora sul Corriere la pagina le pagine interne da Senigallia indagate sui detriti in spiaggia indagate sui detriti in spiaggia litorale invaso dai rifiuti accende anche il dibattito politico il Movimento 5 Stelle chiede la commissione d'inchiesta l'amministrazione ha stanziato 378 mila euro per interventi di pulizia ma potrebbero non bastare il sindaco Mangialardi il sindaco di Senigallia alla Regione dice di fare la propria parte soprattutto per quanto riguarda i costi direi che possiamo fermarci andiamo a vedere le ultime due pagine allora quella di Urbino allora quella di Urbino eccola qua dove c'è in primo piano Alessia Morani che resiste alla Camera e dice no alla secessione la secessione per Alessia Morani la deputata del Partito Democratico è un errore e dice è ha presentato degli emendamenti per fermare il distacco di Monte Copiola e Sassofeltro questi due paesi che dicevamo ormai sono decisi vogliono andare in Romagna anche loro e Tiziano Arlotti che è il deputato del Partito Democratico di Rimini dice i cittadini pensano di stare meglio in Emilia Romagna e anche per me sarà così chiaramente ognuno tira l'acqua al suo mulino poi bisognerà vedere se in realtà è così oppure no però certamente non è facile per chi vive al confine solitamente nei confini è sempre un po' un problema o comunque l'erba del vicino è sempre più verde speriamo in un miracolo invece shock per il pilota ragazzino questa è l'altra pagina di Urbino del Corriere di Oggi incidente sulla pista da Cross il presidente del team dice non è il momento adesso di dare le colpe il quindicenne è gravissimo il suo cuore si è fermato pensate per 30 minuti poi evidentemente c'è stato un miracolo dopo 30 minuti è ripartito e adesso ci sono messaggi e preghiere per lui e allora noi chiudiamo qui la rassegna stampa di oggi ci fermiamo ci ritroveremo stasera alle 20 e 30 per il telegiornale 338 49 68 250 invece continuate a mandare i vostri messaggi le vostre segnalazioni alla nostra redazione con Whatsapp grazie per averci seguito buona giornata a tutti